Una Pordenone moderna, ecosostenibile, attenta alla rigenerazione urbana. Sono le linee guida su cui si fonda la grande variante al piano regolatore predisposta dal Comune. Si disegna la nuova Pordenone? Assolutamente sì, l'abbiamo fatto un intervento corposo, quindi una variante generale che cambia soprattutto le strategie di piano e quindi la visione della città da qui a 30 anni. In particolare recuperando quello che il piano in precedenza aveva tagliato completamente ovvero le archeologie industriali, in particolare l'Amman, ma non soltanto. Andrando proprio a valorizzare quelle che sono le caratteristiche di Pordenone che è città d'acqua e città industriale e di conseguenza sono presenze che la città non può dimenticare e deve inglobare nella sua trasformazione futura. Diverse le aree cittadine da recuperare tramite progetti a lungo termine. Noi ci abbiamo lavorato alla Cremente perché è un obiettivo importante accanto a tutti gli altri traguardi e consentirà sicuramente di puntare sulla rigenerazione urbana, quindi sulla riqualificazione del tessuto cittadino, sul valorizzare le potenzialità delle aree naturali e verdi di questa città e di evitare il consumo di suolo. La variante è frutto di un lungo lavoro. Penso alla riqualificazione del Bronx che è un'area privata e non comunale che però ha bisogno di essere rimessa in ordine, di avere i potenziali per essere sviluppata. Penso alla partita della Mani, i privati l'hanno comprato, il comune è disponibilissimo a primo negoziato per creare non, come dice qualcuno, un centro commerciale che non è assolutamente vero ma un'area di sviluppo coerente con quelle linee di indirizzo del comune. Penso per esempio al consorzio universitario, ai sistemi scolastici, dare cioè le risposte che la città sta attendendo. E poi il noncello, l'area verde e poi l'area dell'ex fiera che ha bisogno di un fortissimo rimaneggiamento che non può rimanere così ma al contrario diventare anche un polo per i giovani.